Il percorso di Moise Ken è abbastanza strano, diremmo quasi misterioso. L'anno scorso è stato ceduto dalla Juventus all'Everton per 27 milioni di euro, in Inghilterra ha fallito, l'anno scorso ha segnato soltanto due gol in Premier League, Angelotti lo ha bocciato, eppure adesso ha compiuto un ulteriore passo avanti nella sua carriera, finendo al Paris Saint Germain forse il procuratore conta più di quello che fa in campo, il voto a quello che Ken ha fatto in campo l'anno scorso è 4, il voto invece al suo volo verso il Paris Saint Germain è 10.